Aaaaaah, con Murlock e bestie in! Amore mio, vieni qua, dammi i token. Lolo, grazie mille, troppo bello, inoltre che è bello, troppo gentile e onesto. Amore mio, quando è bello quando è così? E che nel dirti addio non deve avere ancora una pazzè. Micchia, se qua vedevo che era Mike o Michele, probabilmente mi odiavano. Mi avrebbero odiato, giusto? Meglio, no? Sì, sì. Eh, in realtà no, perché potevi non giocare il secondo pezzo. Bravo, bravo. Player di esperienza, che altro non sei? Che altro sei, anzi? Mi sento il 2-2 quasi quasi, mi sento in colpa, però. Chi sei, amiche? Ah, cosa? Ci sono, perché? Porta Silas. Ah, due l'avevo trovato ben davvero, ma vabbè, faccio la fitta di niente. Prendo il 2-2, prendo ben di mentale. Sì, sì, è ben di mentale, è ben di mentale. Giusto, no? Io ho anche la coppia, che ormai vabbè, l'hai buttata la possibilità. Eh, l'ho buttata nel cesso, caro, hai ragione, c'è ragione te, c'hai ragione, quello che è giusto è giusto. Non ho proprio letto il freeze. Dai, questa è l'inesperienza, caro. Ma io anche prima c'è la maggior parte di compa che faccio, tipo i demoni prima, io non è che l'ho fatta mai, la faccio un po' a braccio, capisci? Un po' così come mi dice la testa. Sarà bella taverna, figlio. Sarà gran taverna. Contro chi sto? Ok. Like pizza? Non c'era pure prima quegli oghi? Mi pare? La fama, quello russo che si chiama mama, tipo, non capisci? Ah, vabbè, è sbagliato sto c'è, però. Mi continua a dare gold? Eh, sezio. Straforte. Straforte, bro, è troppo forte. Cioè, tu fai HP ti dà gold, ma che cazzo vuol dire? Oh, so anche forte io che faccio l'HP corretti, chiaramente, però che c'entra? Cioè, comunque mi ricostruisco questi HP. Da quella volta che hai detto, sta minchiata che ti costruisci le comp, io ovviamente ti prendo per il culo. Che cazzo costruisci? Eh, dai, ma... La persona esperta. Quattro danni, in, dentro. Veramente troppo forte la TikToker qua, come si chiama? Come TikToker? Eh, non credo che si chiami... No, ti crede, no! Perché in realtà... Vuoi fare il TikToker da quando? Oh, Henry! Che vuoi? Che vuoi? Ah, io. Io voglio dire a pacqua. Oh, oh, oh. Ehi, ehi, imbarazzate! Cioè, trovi fortissimo! Cioè, ti dà gold, ti dà! Ma che vuol dire? Ti stanno puntando tutti! Fa' attenzione! E mantengo un buon peso anche con lo spawn! Qua ovviamente perdo! Proprio tre danni! Proprio come il cazzo alla vecchia! Quattro K per prima avrebbe fatto la grossa differenza, avrebbe fatto. Ma lì fa il value trader, lì pure. Oh, roba che prendono 86 di Tai? Me lo meriterei! 86 di Tai? Tirappando altri come un pazzo! Mike! Bella prova! Sei tu che sei sbroccato, eh! Audio? Fa i gridi, fa i gridi! Ma devi fare i gridi! Che schifo! Vabbè! Tanto rispetto, eh! Facciamo il tirappino quello strozzo! Qua prendo Iena, che prendo qua? Fa tutto schifo! Parlo Iena! Facciamo il ghiere! Ah, regà, al 2-2? Per la Iena? Per Scammalla? Destra? Nice! E ancora siamo iniziati nella perfect run! Attenzione! Che adesso io tirappo al 5! No, non è vero, un tirappo al 5! Ha detto tra i primi due! Ok, l'alimentale prova la collo, se no qua non prendo più un cazzo io! Tra i primi due, eh! Ok, ok, ok! Il 2-4 me lo prendo ben volentieri, al massimo andiamo al 2-3! C'è un'altra rollata, io posso cambiare la... La satanassa! Non è male il 4-5! O vogliamo la coppia! Facciamo anche a P su Animale prima! Eh, ma è stato Murlo, il 3-2 l'avrei preso probabilmente, no? Qua credo che sia Mummia! Ma roba del genere! Mi sa che la perfect run comunque finisce qua! Penso, eh! Esattamente a lui, proprio! E invece no! E invece no! E invece no! Per frattare continua! Ma in realtà la 4-5 è veramente forte! Soprattutto se metti quel cazzo di Dimishield! Ah sì! Eh no! Sì che me lo hitta! Bro, mi devi hitta al Dimishield adesso! Ok, adesso mi devi hitta ai tutti sul Dimishield! Con il 3-3 me lo hitti! Con l'8-8 me lo hitti! Io sono contentissimo! Eh, quello diventa un bel agnello! Diventa, figlio! Ok! Ok, ok, ok! Sono... Sono focussed! Sono focussed! Ascoltatevi questa! Ascoltatevi questa! Non ti rappo! Prendiamo coppia di 7-4, no? Prendiamo il 3-3! Oh! More! Ma che l'ha, cazzo? Dove te la metto? E che ne so! Mettelo sul letto come tutte le altre cose! No, come le persone normali! Facciamo così! Adesso la domanda è questa! Voglio prendere la coppa di 2-3 o voglio prendere i gold? Per il turno dopo! I'm confused! I'm confused! Coppia? No, però tirato qua! Tirato qua in da mattia! Coppia, coppia, coppia! Io prendo gold però! Perché sono strozzorabilmente! La zona è più forte gold! Cioè, continuate il fatto che ti rappiamo al turno dopo! Veniamo il 3-3, non liamo gratis! I gold potrebbero essere più forti! Mike, hai cos'hai detto? Prego! No, eh! Audio! A perfect run! No, lo ti faccio! La perfect run! Audio! Bene, bene, bene! Continua ad attaccarmi quella... Bello! No! No, 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 no! Con il 2-1 che mi attacchi il 3-18? Per me sarebbe un piacere! Vai, dai, con il 3-18! Sì, cozzo! Il 2-1 sul 3-18! Sì, cazzo! No, cazzo! Vabbè, a caso ho il 10%... Cazzo, mamma, lui si chiama! Sì, cazzo! È dal mio amore! Ok! Mi spiace molto per Glory Hall! Vi so un sacco di... Vai, dai qua! Facciamo la tripe, no? Vogliamo prendere anche spawn, regà! Cioè, tanto noi qua semplicemente... Vediamo scommettitore e tripliamo! Che hai visto? Ma Miriana è arrivata una certa... E sei un po' incaponita! Ok, audio! Ok, audio! Forza adesso, così! Ah, regà, Ginny? Eh? Piamo Ginny? Glory Hall! Io ho visto... No, Eli, caro, no! Dimmi Ginny! Dai, facciamo le persone immature! Quali si chiamo! Comunque, io ho visto... Un contenuto audiovisivo... Di una ragazza mora... Che... Praticava sesso... Tramite dei buchi! Eh? Era quello? E... Tipo all'inizio sculetta... E poi entra in una casa... Non so se avete presente quel contenuto! Ah, 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 ah! Eh... Ok... Posso avere soddisfazione di attaccare quel 15-8? Niente? Grazie, caro, grazie, grazie, grazie! Grazie ancora, grazie ancora! Sì, ma lei che ci prendo il cazzo qua io? 75%? No! Sì! Sì, 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 sì! Grosso? No, eh, stavo subito al 75%, ho perso! Faccio anche più forte! Cioè, che palle, però, beh, si danni, ma boh, me stanno sul cazzo, me stanno! Vado su, cazzo a me! Elementale, mech, doppio mitas, fa schifo! Sì, HP! Lo sta fermo così! Posso fare un cazzo? Oh, speriamo di non morì! Però, c'è doppio geni con sta cofa schifo! Cioè, a me serviva tipo rag, geni, no? Rob del genere! Vediamo se riesci a stare in testa alla classe logger! Lui sta ancora al 4, no? Ok! Eh, esattamente, c'è quello che dico! Quanti danni mi potrà mai fare? Ma vince? Bro, mi dai rag? Grazie caro, grazie caro! C'è senso, ho chiamato! L'ho chiamato, eh! E no, perché dici, mi dai rag? Sì, grazie! Perfetto! Prego, Mattia! Grazie caro! Audio! Eh, il 4-4 in bordo, caro, è per fare economia! Che cosa metto, tanto? Ok, ok, ok! You got it, bro! E se qua non mi sbrigo, faccio un turnaccio de merda! Eh, regà, vi altri due qua! Speriamo che non baffa l'8-10! Schifo! Vai, ho te il giro andando a fare in culo! Speriamo che non colpo! Go ! Vodper! Qu Growth! Vodper! Eh, mi segui io muoio E' così debole Abbastanza Ok Avrei dovuto mettere il 23-17 prima Ma già è tanto che sono riuscito a fare tutto quello che ho fatto Vai Ebroi Entra lì dentro Con la tua volgarità e azione Cozzo Eh Amore mio me scambi una volta Oh rag Alla Alla Quanto meno scambiamo Questa è una bella scammata Ho cinque anni gratis Alla che è alla che non trovo raggio Stavolta Manco Manco malgadone E' così Ma abbiamo Macao ma giusto per dire Oh c'ho il cazzo Lo uso Cosa ha senso Questo mi costerebbe Uno due Ma è un'altra Sì Ma è un'altra Sì Ma è un'altra Sì Dai mi faccio un altro giro Questo è buono perché poi ci facciamo HP sopra No Ho questo In realtà sta Spira Serpa Meno male che non si è presa manco un baffo perché fa veramente schifo C'è sta roba Oh Io non gli ho chiesto niente eh Ce l'ha dato iss Io Eh io Io l'avevo chiesto prima Ok può andare via Spira Serpa adesso Via Spira Serpa HP so uno a uno Doppio raga Slot di baffa Andiamo a vincere pure questa rod Pure questa rod E a sto punto allora facciamo le cose fatte bene Fatte sporche E a sto punto fammi triplasto rag No Visto che ce tieni Oh deve saltare un altro pezzo Mi sa che salta la spora Lo sporo ci posso chiudere Però dai Porco Dios C'abbiamo ancora un sacco di roll da fa Dammi qualche elementare figlio Ok Ok Sì Serve da pure il buff Tanto voglio dire alla fine Mi serve lo slot per i buff No Questa da più due più due Perché se ne è preso uno Magari serve il bumper contro pirati Vabbè sti cazzo Non fa niente Cioè sono abbastanza luccato io no Ho bisogno di triplare rag Ho bisogno E poi Basta Cioè è finito Potete di pensare di darmi Ma probabilmente lo prendono da quella stasi Quindi ancora meglio 6 6 12 18 E poi il resto viene da sé A capino voglio farlo Sul 1-2 però no Sì Sì Non è il più forte Ma combatterà con onore Meglio assoldare una regla Tanti che puoi farlo Meglio assoldare una regla Tanti che puoi farlo Bro me l'ero anche dimenticato Cazzo Giro su dio Lollo Tanto lo so già che siete Grazie mille Lollone Me l'ero scordato Non prenderti buff Me l'ero dimenticato Un servitore in meno Una moneta Ok Come va Mike la storia? Ma è interessante Credi che ci sarà da divertirsi in questo fight? Potrebbe essere Io ti chiedo una cosa Ti chiedo Ti chiedo una cosa Quello che succede Succede Ma esico che tu mi dia rag Dal mio Ginny Perché mi sono rotto il cazzo La vedulang Posso fare questa ricca richiesta? Prego Posso chiederti se serve Bumper contro di te? Sarebbe scorretto Ok Allora io ti metto Uno spazio per il bumper Sai che non ho informazioni su di te Qualora dovesse servire Audio Fa' attenzione Ma la tempesta non è male Rag Che schifo Alla di bro Tempesta Ok 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 Questa è la piccola diatriba Che ci condurrà sicuramente A una guerra Ben più accesa Caro Ti faccio i miei riori E complimenti Audio Rag Easy Unlucky 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 Rag easy Unlucky Unlucky Somma Ok 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 Audio Ah My man Si è attivato il momento De pisciarag Avevo visto Perfetto Anche l'altro Ah Sbagliato Avevo visto Perfetto Anche l'altro Ho detto Cazzo Che giocatore Completo Non ho fatto In tempo Fa il turno Eh No Sono dimenticato Di spostare I tre Eh ma Probabilmente Perché mi stai Lulcando Ma che No Eh Io non vorrei finire Questa partita Infatti Infinisce Mi ha scammato Bro Vorrei finire Questa partita Ok 73.3 Non ti capito Tutti i giorni Mike Goditi sto momento Tanto perdi dopo È stato un fratello Per me No Non tu Eh La calma Non è il più forte Capito Però Tu devi essere Perfetto A casa mia Vaffanculo Sposta da destra Coglione Filo di puttana In realtà Dove metterlo Come bumper Dove metterlo Come è possibile Sono basato Un 80% A un 6.5 Che cazzo È successo Ho posizionato bene Quando prima Non l'ho fatto Non ti preoccupare Amore Non ti preoccupare Che è iniziata La tua angoscia Non ti preoccupare Eccoti Come va Là fuori Io lo dico sempre Fai le cose In grande Una tripla Ecco la tua Ricompensa Stai davvero Creando Una grande Armata Avere tanto Voluto goal Mi sarebbe Proprio Vecito Goal Sai Bene Mi sa che Mammazzi Però È stato un piacere Giocare con te Reciproco Oh E che succede Si ritorna al 70% Colonnello Mike Sì Sì Bumperalo Bollo Colonnello Mike GG bro Easy 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 Ma ha detto Easy davvero Easy Cazzo Il pallo Ha cercato Allunga un po' La partita Però non hai colto Il segno Probabilmente Dai Sei un buon livello Sei un buon livello caro Per superarmi Ci vuol Del tempo Puoi farcela Con gli anni Che rato In maniera Pazzesca Oh Ma siamo amici Siamo Siamo degli amici Ormai Datati da anni Stai calmo Stai Mamma mia Siamo Zuma E Zuma 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 Grazie.